A rimanere feriti nella sparatoria di ieri nel quartiere Danisini di Palermo sono stati Giuseppe Giordano di 58 anni, il figlio Gianluca di 27 anni e Maria Deborah Namio di 22 anni, portati in ospedale ma nessuno di loro in gravi condizioni. La ragazza ha detto di non conoscere due uomini e di trovarsi lì per caso. Il suo racconto è al vaio dei carabinieri che hanno sentito anche Gianluca, quest'ultimo indagato per spaccio di stupefacenti ed è per questo che si sta scavando anche sul mondo della droga, oltre che in quello dei cavalli e delle scommesse. Si sa infatti che in quel quartiere si svolgono delle corse poco prima dell'alba, così come in altre zone della città. I vicini hanno raccontato ai militari di una lite scoppiata la sera prima della sparatoria. I carabinieri hanno trovato anche un'auto abbandonata, risultata rubata e lasciata lì con i finestrini aperti. Secondo una prima ricostruzione, ad aprire il fuoco potrebbe essere stata una quarta persona che ancora non ha un nome e un volto. Una volta chiarita l'identità dei protagonisti della vicenda, i militari dovranno scoprire cosa abbia innescato la miccia. Al vaio anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza piazzate nei paraggi.